Grazie amici, come andiamo oggi? Bene? Casa, buona famiglia? Canolino mangiato? Gazzino pure? Ok Questo è l'ultimo video che faccio prima di Pasqua Infatti voglio regolare a tutti buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie Spero che questi due giorni vi riposate che è andato a male che è andato in montagna che andrà in montagna che andrà in mare o che si riposa Buona Pasqua a tutti Detto questo voglio dirvi una cosa non ho sempre di più le scritte non ho di più sempre le visualizzazioni grazie grazie mille a tutti spero che saremo sempre di che sarete sempre di più ogni ogni giorno che passa vabbè quello che vorrei dire che intanto vi faccio ancora buona Pasqua a tutti a voi e alle vostre famiglie mi raccomando mangiate poco e no state male come dico sempre io mangiate poco ok buona Pasqua ancora e fate i bravi alla prossima grazie a tutti